Nome. Fritz Onka. Numero vittime. 4. Modus operandi. Strangolamento, mutilazioni, decapitazione. Onka è nato il 31 luglio 1935 all'Ipsia, Germania, era il terzo di dieci figli. Suo padre era un falegname e morì a causa dell'alcolismo nel 1946 mentre sua madre era addetta alle pulizie. Tre dei suoi fratelli morirono alla nascita. Nei primi anni 50, Onka iniziò un apprendistato come muratore, ma dovette rinunciarci a causa di un'allergia. Onka fuggì nella Germania occidentale nel 1951 e iniziò a lavorare come operaio non qualificato. In quel posto, ha avuto una relazione con una donna di nome Margot che ha dato alla luce un figlio, Heinrich. Il suo strano aspetto lo si deve ad un incidente stradale nel 1956, nel quale si spaccò il naso. In quell'anno interruppe la relazione con Margot e si trasferì ad Hamburgo, dove conobbe e successivamente sposò Inge. Ebbe un figlio ma il matrimonio fallì e si separarono nel 1960. I vicini ricordano scene violente dal loro appartamento. L'uomo andava spesso su tutte le furie, insultando e picchiando la moglie. La coppia si riconciliè, ma si separò una seconda volta nel 1967. I primi problemi con la legge li ebbe il 15 agosto 1972, quando tentò di costringere Ruth Dufner, una ragazza, a fare sesso con lui. Ruth ovviamente rifiutò e l'uomo l'aggredì strappandole i vestiti e tentando di stuprarla. La ragazza riuscì mezza nuda a scappare dal suo appartamento e a fare denuncia alla polizia. Dovete anche trascorrere qual che giorno in ospedale. Il tribunale però non lo condannò al carcere ma lo sanzionò con una multa di 4000 marchi. Fritz era un uomo piuttosto basso, aveva difficoltà a parlare ed esprimersi, e il suo alcolismo cronico non gli permetteva di avere relazioni stabili e durature con le donne. Di questo, Fritz ci soffriva, iniziò ad accumulare una forte rabbia e odio nei confronti delle donne che ben presto sfocerà in omicidio. Sempre più solo, iniziò a frequentare bare zone frequentate da prostitute. È dicembre del 1970. Gertrude Brower, 44 anni, parrucchiera, ha stretto amicizia con Onca che l'ha invitata a casa con la scusa di farsi una bevuta e due chiacchiere. Una volta nell'appartamento, le intenzioni vere dell'uomo vennero a galla. Le chiese di fare sesso con lui ma la donna rifiutò. La reazione di Onca è violentissima. La strangola a morte, le taglia il seno, le mani, una gamba. La decapita e butta i pezzi in una discarica. L'unico pezzo mancante era il torso. L'uomo se lo era tenuto nel suo appartamento, forse come trofeo. 1974. Anna Beuskel, 54 anni, una casalinga prostituta che l'assassino ha conosciuto in un bar. Anche in questo caso l'ha invitata a casa sua per una notte di sesso. Insoddisfatto della prestazione sessuale della donna, l'ha uccisa strangolandola, poi mutilò il corpo e nascose i resti nell'attico. Dicembre 1974. Rita Roblik, 57 anni, altra prostituta, altra macabra fine. Gennaio 1975. Ruth Hsu, 52 anni, ex compagna del serial killer. È stata tramortita dall'uomo, spaccandole una bottiglia di vetro in testa. Il mostro le ha poi segato le gambe all'altezza dei femori. Entrambi i seni sono stati tagliati, così come le orecchie, la punta del naso e la lingua. La polizia non si fermava un attimo. Le indagini proseguivano senza sosta. Quei ritrovamenti di donne fatte a pezzi stava terrorizzando tutta la zona. La cattura del serial killer, però, avvenne a caso. È 15 luglio 1975 quando scoppiò un incendio nella palazzina di Onca. I pompi eri che hanno affrontato il fuoco hanno scoperto un busto femminile parzialmente decomposto in un sacchetto di plastica. Avvisarono così la polizia che, recata immediatamente sul luogo, iniziò per lustrare. Nel frattempo l'uomo era a lavoro. Si trovò la sorpresa quando tornò a casa. Arrestato, confessò subito gli omicidi. Gli psichiatri lo hanno descritto come un sadico sessuale. Prima di uccidere e mutilare le vittime, praticava sesso violento. Si eccitava nel dominare donne indifese. Era misogino, odiava le donne e sentirsi rifiutato provocava in lui un'ira incontrollabile. Ciò era dovuto al fatto che aveva una scarsa autostima di se stesso. È il 20 dicembre 1976. Onca viene condannato a 15 anni di reclusione, per poi scontare il resto dei suoi giorni in ospedale psichiatrico. Morì nel 1998 per problemi dovuti ad anni di abuso d'alcol.